Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere, sul richiesta di un utente nei commenti, uno degli strumenti di After Effects che fa tanto parlare di sé, ossia il Roto Brush Tool, o detto in italiano il pennello del rotoscopio. La tecnica del rotoscoping consiste nel ritagliare fotogramma per fotogramma un determinato elemento così da ottenere una maschera, quindi l'elemento ritagliato, per poi poterlo compositare in diverse circostanze, oppure poter utilizzare quella determinata maschera per colorare un determinato livello, un determinato oggetto all'interno della nostra immagine, senza toccare gli altri elementi. Insomma, è uno strumento, è una tecnica, quella del rotoscoping, che è fondamentale quando si parla di compositing o di lavorazione delle immagini, perché il rotoscoping e la creazione di maschere è una parte fondamentale anche della lavorazione del color grading e della color correction avanzata. Uno degli strumenti che l'Adobe ha inserito all'interno di After Effects, se non vado errato dalla versione CS6, è questo rotobrush tool, ossia è un pennello che ci consente di poter selezionare una determinata regione della nostra immagine, quindi ci sarà il software che farà un calcolo dell'immagine per noi e realizzare una maschera, diciamo, quasi in modo automatico. Naturalmente, come per ogni tipologia di lavorazione sulla postproduzione, guardare solo gli esempi che ci propongono gli altri non è mai sufficiente, semplicemente perché ad ogni lavorazione, ogni immagine ha le proprie problematiche e può avere diverse soluzioni. Prendiamo questo caso in particolare che ho scelto, ho preso una clip, ne ho tagliato una porzione in After Effects e abbiamo un'immagine completamente ferma e c'è soltanto questa pala che si muove e che realizza una rotazione. Adesso, quello che voglio fare è andare ad analizzare con voi prima di tutto lo strumento come si utilizza e poi cercare dei sistemi al tempo stesso, se lo strumento rotobrush tool diventa anch'esso ostico, trovare dei sistemi alternativi. Ad esempio, partiamo subito dai sistemi alternativi. Non è detto che utilizzare il rotobrush tool, quindi questo strumento che con una semplice pennellata, in teoria ritaglia una determinata porzione di immagine, sia la soluzione migliore. Ad esempio, il rotobrush tool è comodo quando si hanno delle figure nette, ben distinte. In questo caso, ad esempio, io sono già sicuro perché lo conosco parecchio, questa immagine, scelta apposta, in questo punto qui affoca, in questo punto qua sfoca. Sono sicuro che il pennello in questo punto avrà difficoltà a trovare, a fare un contrasto e a trovare i bordi dell'immagine, però può darsi che mi sto sbagliando. Ho preso anche questa immagine perché un'immagine è ricca di contrasti e di texture. Come vedete, sia qui c'è un contrasto, ma ce n'è un altro qui, ce n'è un altro qui. Quindi possiamo mandare ai matti anche il software. Quindi una delle soluzioni che prima vengono in mente per il rotoscoping, ed è anche quella più classica, è il classico creare una maschera, andare punto per punto, selezionarci il nostro livello e creare la nostra maschera ed andarla animare fotogramma per fotogramma. In questo caso, secondo me, è la cosa più veloce da fare. Ma siamo qui anche per analizzare quello che è questo strumento. Quindi, vediamo subito come si presenta. Noi abbiamo una composizione, abbiamo il nostro canvas con la nostra clip tagliata al suo interno. Nel momento in cui andiamo a selezionare il Rotobrush Tool, che è questa iconcina qui, in alto a sinistra, all'interno della toolbar, una volta selezionato, noi non possiamo toccare nulla. Questo perché il Rotobrush Tool non agisce sulla composizione, ma solo nel livello. Cosa significa questa cosa che sto dicendo? Nel momento in cui io seleziono un determinato strumento, come può essere il Rotobrush Tool, ma in questo caso, in questo specifico caso, tutti gli effetti che richiedono un pennello quindi può essere le Race Tool, può essere il Timbro Clone, può essere il pennello normale, ha bisogno di entrare in un'altra modalità. Ossia, in questo momento, noi stiamo vedendo la composizione e il canvas, in questo caso, è quello della nostra composizione. Ma, se io clicco due volte, dato che questo qua è un livello e non è una composizione, sull'immagine, mi si aprirà un altro canvas. Ossia, quello che in Premiere potremmo dire è il monitor sorgente, dove dove possiamo andare ad analizzare, inserire un In e un Out alla nostra clip che abbiamo in Timeline. Questo è il nostro monitor sorgente. Questa porzione di colore differente è quella che noi stiamo vedendo nella nostra Timeline, ma questa immagine è molto più lunga. Quindi noi possiamo, in questo canvas qui, andare a guardare quella che è tutta la clip ed attivare determinate funzioni che dopo andremo a vedere. In After Effects, questo è detto il canvas del livello o canvas del layer. Infatti, noi andiamo in alto, troveremo la dicitura layer e il nome del file. Nell'altro caso, invece, abbiamo composition e abbiamo il nome della composizione. Per mostrarvelo meglio, vado a cambiare il nome della composizione. Così. Eccola qui. Composizione 000 è il monitor del canvas precedente, quindi della nostra composizione. Se clicco due volte sul mio livello, andrò nel layer del mio file video. Tutte le operazioni che utilizzano un pennello di questa toolbar andranno effettuate necessariamente in questa modalità qui. Andiamo a vedere adesso, quindi selezionando la nostra clip e selezionando lo strumento Rotobrush Tool, che cosa succede? Che ci compare questo pallino verde. Questo pallino verde è il nostro cursore del nostro strumento pennello. Naturalmente la grandezza del nostro pennello può essere modificato sulla destra perché si aprirà il pannello Brushes, ossia del pennello. Noi possiamo andare ad aumentare il diametro e naturalmente ci si aumenterà anche quello del nostro cursore. Ma come funziona lo strumento? Come vedete il nostro cursore è di colore verde. Ciò significa ed ha un più al centro. Ciò significa che tutto quello che noi andremo a selezionare lui lo utilizzerà come maschera. Quindi andiamo ad allargare il nostro pannello e cominciamo a creare una maschera molto grossolana di quello che noi vogliamo andare a ritagliare. Nel momento in cui adesso rilascerò il mouse, il software farà un velocissimo calcolo ed applicherà l'effetto. Quindi cominceremo a lavorare con il Rotobrush Tool. Ok. Come vedete ha avuto problemi dove avevo immaginato. Perché il Rotobrush Tool e special modo il software ragionano per contrasti. Quindi vanno a determinare i punti di contrasto che noi abbiamo selezionato. Quindi una cosa che noi potremmo fare per tentare di sistemare il tutto prima di tutto è cancellare l'effetto e ricominciare da capo. Perché una volta che noi abbiamo dato dei parametri al software il software ragionerà seguendo quei parametri. Noi potremmo soltanto andare a modificarli nel tempo. Dopo vi mostrerò come. Però un modo per poter lavorare al meglio con questo strumento è sin dalla prima selezione. Adesso poco fa io ho cercato di delineare tutto quello che a me serviva da scontornare. Adesso proviamo al contrario a delineare soltanto l'interno quindi con una semplice croce così e vediamo il software come ragiona. Come vedete su una determinata porzione dell'immagine il software ha ragionato in una maniera un pochino più precisa quindi si è tenuto all'interno di alcuni bordi non è esagerato mentre dall'altro lato come detto in precedenza sapevo che ci sarebbero stati dei problemi di contrasto e quindi il software ha selezionato alto. Ma come possiamo fare per andare a sistemare questi problemi di selezione? Prima di tutto andiamo a diminuire un pochino il nostro cursore perché è troppo grande doveva andare di pennello quindi cosa significa andare a spennellare le parti che ci interessano vedete in questo caso qui ha aggiunto troppo e noi possiamo andare a togliere la selezione come cliccando con il tasto alt sulla nostra tastiera e mantenendolo premuto la selezione cambierà da verde a rossa quindi in questo modo andando a selezionare delle porzioni lui le eliminerà dal nostro schema quindi dalla nostra selezione continuiamo a lavorare purtroppo come vedete non è detto che sia un lavoro più veloce o più facile di altri piuttosto che creare delle maschere ed animarle fotogramma per fotogramma anche perché poi vi mostrerò che lo strumento poi una volta fatta una selezione una prima selezione anche precisa non è detto che la mantenga nel tempo e quindi noi fotogramma per fotogramma comunque dovremmo andare ad agire con un pennello e sistemare i problemi che ci sono diciamo che per sommi capi la nostra selezione è stata fatta adesso come si agisce il software calcolerà i fotogrammi successivi in automatico ma come noi dovremo spostare il nostro cursore nel tempo e indicare il punto della nostra timeline dove vogliamo che il calcolo si fermi perché è naturale che normalmente quando si fanno queste operazioni diamo spazio al software di poter ragionare di ragionare per piccoli blocchi quindi a gruppi ad esempio di 10 fotogrammi così che se si genera qualche errore abbiamo 10 fotogrammi da sistemare e non per forza un minuto o un minuto e mezzo nel nostro caso se non sbaglio la nostra composizione è di pochi secondi addirittura è sotto il secondo quindi noi cosa possiamo fare prima di tutto come vediamo in questa porzione qui del nostro pannello layer vediamo che dal punto in cui noi abbiamo creato la selezione quindi aggiunto il primo disegno del nostro rotobrush tool è comparsa questa linea grigiastra questa linea grigio scuro sotto al nostro cursore con delle frecce che vanno verso destra e delle frecce che vanno verso sinistra questa è l'area questa indicata è l'area dove il rotobrush tool avrà effetto cosa significa questa cosa che se noi ci spostiamo con il cursore in questo punto qui il calcolo verrà analizzato fino a questo punto qui d'accordo è un po' complesso come ragionamento ma dopo un pochino ci si arriva cosa significa che quando io mi sposterò adesso ve lo mostro mi sposto in questo punto qui come vedete la maschera è saltata perché non sa perché noi abbiamo detto di fermare il calcolo in quel determinato punto e tra le altre cose non l'ha neanche calcolato perché noi siamo fermati sull'ultimo di quei fotogrammi e quindi cosa è successo che ci ha creato una maschera generica grande quanto è tutto il nostro fotogramma nel caso invece mi sposto in questo punto qua il software comincia a ragionare e a creare la maschera d'accordo avete visto come si è effettuato il calcolo quindi come posso fare io per calcolare oltre questo determinato punto semplicemente trascinando il punto di fine corsa che possiamo trascinarlo fino all'infinito lui continuerà a calcolarlo perché adesso avevo il cursore subito dopo quindi cosa faccio mi sposto all'ultimo fotogramma del mio cursore e faccio fare il calcolo al mio software come vedete purtroppo la selezione non è delle migliori mantiene un determinato punto per esempio mantiene questi punti qui ma il resto va alquanto male quindi noi cosa possiamo fare spostarci fotogramma per fotogramma prima di tutto vedere dove succede il disastro più totale per esempio il primo fotogramma è ancora guardabile il secondo comincia ad andare male qui quindi cosa facciamo andiamo ad agire di pennello quando noi andremo ad agire di pennello in automatico il software creerà una sorta di keyframe o meglio fisserà quel determinato punto e saprà che fino a quel punto il calcolo andava bene dopo il calcolo va totalmente rifatto e nel punto in cui noi abbiamo lavorato dice ricordati questa determinata maschera e ripartirà da quel punto lì la logica è un po' questa naturalmente come vi spiegavo da caso in caso il software ragiona in modi differenti per esempio in questo caso sarà ragionato in un determinato modo può darsi che in altri casi ad esempio con dei capelli o con delle immagini molto in movimento il software ragioni alquanto male d'accordo abbiamo sistemato un pochino la nostra maschera andiamo avanti di qualche altro fotogramma gli facciamo fare il calcolo che in questo caso è pressoché veloce ed andiamo a modificare a sistemare un pochino questo lato perché il contorno non è dei migliori andiamo a sistemarlo alla Carlona diciamo che per noi la maschera va bene naturalmente questo è un lavoro di fino quindi bisogna avere tantissima pazienza e sistemare con tantissima pazienza la nostra maschera quindi fondamentalmente il concetto è questo naturalmente adesso non andrò a realizzare la maschera precisa per tutta la clip perché non ne ho non ne ho bisogno però quello che volevo mostrarvi era il senso di questa tipologia di lavorazione ossia non è detto che questo strumento sia più vantaggioso piuttosto che creare una maschera quindi ci saranno casi in cui è più comodo creare una maschera casi in cui è più comodo utilizzare il rotobrush tool quindi il rotobrush tool un consiglio che vi do è di utilizzarlo quando avete degli elementi che hanno un forte contrasto con lo sfondo in casi come questo che ho selezionato io dove contrasti con lo sfondo non ce ne sono diventa tutto più complesso ad esempio quest'elica aveva come sfondo un cielo azzurro allora lì c'era un punto di contrasto forte e software avrebbe ragionato bene come un'altra cosa questo algoritmo ragiona male quando c'è tanto motion blur quindi è da valutare la tecnica da utilizzare in quella determinata circostanza ma adesso andiamo a vedere quali sono gli altri parametri diciamo che abbiamo completato il nostro calcolo e ci piace la nostra maschera ma è nella vita perché è bruttissima ma nel caso ci piaccia cosa possiamo fare prima di tutto dobbiamo dire al software di frizzare il calcolo perché altrimenti noi ogni volta che andremo avanti e indietro andrà a calcolare la maschera in quegli determinati fotogrammi quindi noi cosa dobbiamo fare è andare a frizzare con questo comodissimo tastino la nostra maschera quindi il software si rifarà tutto il calcolo seguendo i parametri che abbiamo inserito e quello che noi abbiamo già visto e andrà a frizzare la maschera così otterremo il nostro calcolo frizzato possiamo anche scorrere in modo più veloce all'interno della timeline il software adesso non dovrà più analizzare perché ha degli elementi calcolati in cache naturalmente se vogliamo andare a modificare qualcosa possiamo defrizzare la maschera ma il calcolo ricomincerà da capo quindi fate attenzione all'utilizzo di questo strumento stiamo di nuovo a rifrizzare il tutto e andiamo a vedere al volo quelli che sono questi pulsanti e parametri che noi abbiamo qui sotto allora prima di tutto abbiamo il tastino del render e questo sta a significare che in questa modalità con questa opzione attivata noi possiamo effettuare calcoli e render in background abbiamo la tendina di selezione della vista che cosa significa qui sono le cose che noi possiamo vedere all'interno di questo pannello livello ossia possiamo vedere solo le maschere in questo caso non abbiamo maschere possiamo vedere i tracciati degli anchor point quindi le animazioni e possiamo andare a vedere il roto brush e il refine edge quindi il pannello dove eravamo prima ma come mai in questo momento è cambiata la nostra visualizzazione se prima vedevamo il contorno viola sull'immagine semplicemente perché qui sulla nostra sinistra abbiamo tre tipi di visualizzazione la prima è quella con alfa quindi dove metterà l'alfa e quindi un nero di previsualizzazione attorno all'elemento da noi mascherato oppure possiamo vedere il mate quindi soltanto il canale dell'alfa possiamo andare a selezionare l'alfa overlay ossia questo c'è anche in photoshop aggiungiamo una maschera attorno per creare il contrasto e vedere la maschera da noi generata oppure la visualizzazione che avevamo in precedenza ossia quella dove abbiamo soltanto il contorno della nostra maschera ed infine abbiamo anche gli strumenti per inserire in e out della nostra clip all'interno del pannello livello una volta definita la nostra maschera adesso dobbiamo andare a lavorarla e sistemare un pochino determinati parametri poi si fa prima di tutto dobbiamo uscire da questa visualizzazione del layer e quindi torniamo alla composizione che normalmente una volta aperta in precedenza ed entrati nel livello rimarrà sempre in alto a sinistra adesso noi abbiamo il nostro livello tagliato si mostra che c'è il canale alfa sotto se lo attivo qui adesso abbiamo la nostra la nostra maschera come possiamo sistemare un pochino i nostri contorni i contorni della nostra maschera bene andiamo nel pannello controllo effetti che abbiamo qui sulla sinistra e come vediamo c'è l'effetto roto brush e refine edge attivato questo perché abbiamo appena lavorato e creato la nostra maschera abbiamo determinati valori da poter attivare o disattivare abbiamo questo determinato valore il fine tune roto brush mate ossia andiamo a sistemare i dettagli della nostra maschera è attivato quindi possiamo utilizzare determinati parametri se lo disattiviamo non ce li fa modificare possiamo andare a modificare la sfumatura del nostro bordo qui è chiamato sfumatura in realtà andiamo ad arrotondare i nostri bordi abbiamo il contrasto e questo genera una sfumatura del bordo possiamo andare a shiftare gli edge quindi andare oltre il livello della maschera e rientrare dentro oppure la riduzione del brusio va ad eliminare il brusio che si genera lungo i bordi naturalmente va sempre trovato un punto di incontro tra tutti gli altri effetti naturalmente di caso in caso poi quelli che sono le esigenze di questa maschera vanno valutate ad esempio se va soltanto realizzata una color correction quindi avete bisogno di una maschera per colorare determinato elemento la maschera può anche non essere precisissima oddio in questo caso qui ci sono all'interno della maschera delle porzioni che non dovrebbero esserci proprio ma ci sono casi e casi in cui la maschera può essere anche un po' meno precisa detto ciò vi faccio vedere una delle possibili implicazioni del creare una maschera con questo strumento mi duplico un attimo il livello e ci cancello l'effetto roto brush quindi adesso ho il livello sopra selezionato quindi la nostra maschera e sotto invece ho il livello pieno cosa faccio vado a prendere un adjustment layer dove andrò ad applicarci un effetto ad esempio di curve questo contrasto lo voglio soltanto su questa pala quindi io cosa faccio lo sotto e dico utilizza l'alpha ok adesso abbiamo utilizzato la maschera generata in precedenza per colorare quella determinata porzione naturalmente noi possiamo essere anche furbi ad aggiungere oltre all'effetto roto brush possiamo andare ad aggiungergli un effetto di blur così da ammorbidire molto di più la nostra selezione tutto naturalmente dipende sempre da quello che noi stiamo cercando e da quello che noi vogliamo fare come vedete questo è un esempio di utilizzo dello strumento roto brush tool è uno strumento che serve a creare un roto scoping quindi a ritagliare un elemento le motivazioni per cui si utilizza questo strumento possono essere tante quindi vi ripeto può essere una fase di compositing in cui avete bisogno di tagliare una determinata porzione dell'immagine per poterla spostare da un'altra parte oppure per crearvi delle maschere da utilizzare poi in fase di color come tutti gli strumenti deve essere utilizzato con le pinze perché ha i suoi pro e i suoi contro ci sono circostanze come spiegato dove questo strumento funziona molto bene dove ci sono punti di contrasto forti per il ritaglio di quell'immagine ma in circostanze più complesse come questa qui che vi ho mostrato dove ci sono molti punti di contrasto questo strumento non funziona nel migliore dei modi spero che questo video vi sia piaciuto e risulti utile se così è stato potete mettere un like a questo video potete condividerlo ad amici che non conoscono il rotobrush tool potete commentare facendo richieste domande dove c'è la possibilità risponderò al commento o nell'eventualità come ho fatto con questo utente che me lo ha chiesto ho realizzato questo tutorial perché voleva conoscere meglio questo strumento perché aveva dei problemi spero di aver esaudito il desiderio noi ci vediamo in settimana con nuovi video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti